Ma guardi Massimo, non voglio fare il pompiere perché lei come sa sono sempre dalla parte dell'onestà intellettuale, allora la questione dell'omino ovviamente tornando al grafico è un fatto squisitamente di proporzioni, il problema delle date è un fatto inesistente perché l'ultimo aggiornamento del report dell'Istituto Superiore della Sanità con i dati corrispondenti a questo grafico riporta i dati dal 28 novembre al 28 dicembre cioè rispetto alla data di pubblicazione del report ci sono circa 15 giorni che sono conseguenti al periodo di consolidamento dei dati. L'errore che è stato fatto in quel grafico è la popolazione di riferimento che porta a quella diciamo paradosso che più il tempo passa e i non vaccinati invece che aumentare diminuiscono e i booster diminuiscono. E' un errore grave però scusi, è un errore abbastanza serio, se l'avesse fatto Berlusconi chissà cosa sarebbe successo. E' una cosa che anche noi avevamo rilevato proprio perché la popolazione di riferimento non era stata probabilmente calcolata in maniera corretta, poi dopo il pasticcio è stato riallineato tutto, però la cosa importante è che dal punto di vista quantitativo paradossalmente il risultato è migliore di quello che il grafico originale facesse vedere. Quindi non sono neanche capaci di comunicare questo che dice lei, anche Sileri la sottolineando, non sono capaci di comunicare. Perfetto, poi adesso le faccio vedere una cosa prima. No, io volevo solo per quello che riguarda la questione del vaccino, è evidente che un po' tutti siamo rimasti delusi da quella che è l'efficacia del vaccino sulla protezione dal contagio e soprattutto sul declino che questa ha perché si arriva al 70% e poi dopo 3-4 mesi scende al 30% per poi tornare al 70% dopo aver effettuato il booster. La cosa importante però è che comunque la protezione da malattia grave che porta alla terapia intensiva, al ricovero e al decesso, declina poco e ritorna al 97% dopo il booster. Ecco, però questo è un dato che ci aiuta e l'abbiamo capito. Ecco, è vero.